Sport, ma anche educazione ai corretti stili di vita e al rispetto dell'avversario. Questi gli obiettivi degli EduCamp proposti dal CONI e che a sciacca vengono tenuti dall'associazione Il Discovolo. I ragazzi dai 5 ai 14 anni sono impegnati in numerose attività. Oggi, con il supporto della psicologa Ivana Di Mino, si è parlato di bullismo, del corretto utilizzo dei social, di integrazione e di fair play. Oltre agli EduCamp, il Discovolo si prepara alla ripresa agonistica ufficiale per i settori scherma ed aerobica. Ne abbiamo parlato con Marinella Riggio, dello staff del Discovolo. EduCamp è un progetto del CONI. Noi siamo stati tra le società privilegiate ed inserite in questo progetto. È un progetto multidisciplinare dove c'è il CONI. Si tratta sempre di interventi multidisciplinari corredato da attività collaterali. Oggi è un'attività svolta all'aperto. Noi abbiamo puntato maggiormente su questo. I nostri istruttori sono stati tutti formati da un corso con il responsabile Tonino Gennaro del CONI Sicilia attraverso il quale hanno non solo approfondito le tematiche dell'EduCamp ma svolto proprio un vero e proprio corso anti-Covid. Oggi ci sarà l'intervento anche di alcuni esperti esterni? Sì, tra le attività collaterali è stato previsto sia l'intervento con un incontro con la psicologa, la dottoressa Ivana Di Mino. A breve ci sarà anche un'altra giornata dedicata alla nutrizione con la dottoressa Sonia Indelicato-Liva. Voi avete già cominciato da più di un mese per quanto riguarda EduCamp. Come sta andando? Che bilancio possiamo fare? Il bilancio è assolutamente positivo perché tra le attività che sono state proposte abbiamo proposto anche laboratori, attività ludica, attività motoria. Abbiamo cercato di individuare e di inquadrare delle attività motorie che potessero essere in linea con gli ultimi sviluppi che ci sono stati emanati dai decretti ministeriali. Devo dire che da parte dei bambini e dei ragazzi c'è stata assolutamente una positività nell'accogliere questa disciplina e questo modo di fare sport un po' diverso rispetto al solito. Quali sono i temi, le tematiche affrontate oggi? L'EduCamp mira a formare dei ragazzi più consapevoli migliorando lo stile di vita e soprattutto cercando di trattare temi molto attuali come il bullismo o per quanto riguarda lo sport, il fair play, quindi il rispetto delle regole. EduCamp quindi non soltanto sport ma diciamo educazione a 360 gradi? Esatto, educazione allo sport, educazione alla vita, educazione all'alimentazione, il tema è sempre quello per cercare di educare dei ragazzi ad uno stile di vita sano e quindi formare il futuro da qui a breve. Voi del discopolo dopo l'emergenza Covid-19 ripartite anche sia con l'aerobica sia con la scherma, i campionati dovrebbero ripartire insomma? Sì, le federazioni in questo stanno iniziando a demanare i loro calendari, infatti speriamo bene ma dovremmo ripartire nel secondo semestre da ottobre con i campionati sia di ginnastica aerobica che con la scherma.